Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, vogliamo parlare di un oggetto molto importante che è l'oggetto della grazia, legato, questo oggetto, a un'altra dottrina che è la dottrina appunto della fede. Quindi capire la parola di Dio attraverso lo studio sistematico dottrinale, quindi dottrina per dottrina, è molto importante perché ci aiuta a capire qual è la, come dire, l'opera salvifica di Cristo sulla croce, la sua importanza, la sua enfasi biblica e tutto possa su un solo nome, Gesù Cristo. Quindi questa sua volta ci va a catapultare su un'altra situazione realtà-verità, quello di capire e scoprire le cattive dottrine, le false dottrine. Ok, ci sono diverse situazioni sia, diciamo, nel falso mondo anticristiano, sia nel mondo pseudo-evangelico, ma sia anche dentro al mondo evangelico di sana dottrina. Ovvero, esistono delle credenze che, secondo il, come dire, il gruppo appena elencato, possano essere più o meno enfatizzate. Per esempio, la figura di Maria. Ok, la figura di Maria è una figura, per alcuni versi, molto emblematica. Noi conosciamo, diciamo, la situazione che vive la religione cattolica apostolica romana, che ha creato una vera e propria mariologia. E che cosa succede? Che questa mariologia, comunque, ha penetrato un po' dappertutto e persino nel nostro mondo di cosiddetto di sana dottrina ci sono alcuni credenti che non hanno ben compresso l'opera del Cristo sul Calvario. Peggio mi sento quando, in altri mondi che non sono evangelici, loro stessi dicono, grazie a Dio che a me non lo ammettono, di non essere evangelici, che ne so, mi viene da pensare nei fuori usciti dei testimoni di Geova. Questo è molto comune. dove si prende la figura di Maria, ok, e non si propone una vera e propria mariologia, una deificazione, quindi, della figura di Maria, ma comunque si propone un qualche cosa che in qualche maniera, ok, si vuole avvicinare, si vuole avvicinare a questa situazione. Ovvero, si dice che Maria, seppur non è Dio, seppur non è una divinità, comunque non è neanche un uomo normale. Uomo come umanità, ovviamente, è una donna. Quindi non è un essere umano comune e corrente, non è un essere umano normale, perché si trova al di sopra, ok, di tutti quanti gli uomini. Quindi è superiore agli uomini. Perché? Per dimostrare questo, ora possono utilizzare parole più, come dire, più morbide di queste per far penetrare quello che ho appena descritto, ma comunque il senso è questo. E per supportare questo documa, infatti si tratta di un documa, cioè di una dottrina umana e non di dottrina, che è la parola di Dio, per supportare questo documa vanno a fare enfasi su uno o due versetti decontestualizzandoli, che si trovano uno su tutti in Luca, capitolo 1. Ok. E questo si trova in una misura inferiore, abbastanza inferiore, ma comunque sempre un qualcosa di sbagliato, in alcuni che pensano, nel nostro mondo di sana dottrina, che pensano che Maria fu scelta perché speciale, perché in qualche maniera diversa dagli altri uomini. Questo succede per diverse situazioni, perché o non si è ricevuto l'insegnamento adeguato, quindi non ti hanno insegnato l'opera della croce e che cos'è la grazia, cioè la dottrina della grazia, quindi non ti è stata insegnata. Oppure, questo è ancora più comune, che sì ti è stata insegnata, ma non è stata recepita dalla persona, una cosa molto comune. Tenete presente che tutti quelli che studiano, metto la mia persona avanti col mio canale, la maggior parte delle persone non recepiscono, non recepiscono. Io, per esempio, mi sono ritrovato persone, dopo aver detto come si prega, persone che non sanno pregare, non sanno questo, non sto facendo adesso enfasi su nessuno, ma come discorso generale, persone che non recepiscono, e questo è molto comune, anche io stesso, prima di recepire una cosa, alcune cose, ci metto tempo. In parte è normale, in parte dobbiamo essere attenti. Quindi recepire, quindi alcune persone proprio, gli è stato insegnato, quindi la colpa non sta nel ministro di turno, nella comunità che frequentano, ma semplicemente perché non recepiscono. No, Maria non è superiore. Maria non è superiore. L'uomo, la dottrina, ecco qui entriamo in un'altra dottrina, la dottrina del peccato, della giustificazione per grazia, eccetera, vuole che gli uomini siamo tutti uguali. Quindi se gli uomini siamo tutti uguali e che non c'è gerarchia, non c'è superiorità, ma ci sono semplicemente responsabilità diverse, compiti diversi, che ne so. Il ministeriato che ha il ministero di pastore, di evangelista, di dottore, di profeta, quello che ti pare, comunque non è superiore agli altri. Allora, perché per noi vale e per Maria non vale? Ok, mi vai a prendere un verso, due versi, tre versi, ma li stai decontestualizzando. Quindi non funziona così. Ok. Allora, per comprendere la grazia, ora io non starò qui 40 ore a parlare, per capire la grazia dobbiamo partire dalla Genesi. Quindi quando noi leggiamo in Genesi, Genesi capitolo 1, 2, 3, nello specifico il capitolo 3, noi vediamo che in, io qui davanti ho la mia Bibbia, noi leggiamo che in Genesi capitolo 3 a un certo punto Adamo ed Eva peccano. E come peccano? Cioè praticamente vogliono diventare come Dio, perché è scritto che voi diventerete come Dio. Interessante notare che la parola Dio nei testimoni di Geova viene presa letteralmente. Faccio una premessa. I più grandi apologeti al mondo, io ho modo di seguire uno di questi e di studiare poco apologetica con questa persona dove vengono fatti dei dibattiti a livello internazionale. Sono stati scritti libri dove si spiega tutta la patristica e come confutare il mondo cattolico con la patristica. Cioè gente che veramente conosce la storia, le dottrine, conosce tutti i vari credo. quando tu vedi questi dibattiti e escono fuori degli apologeti testimoni di Geova nasce sempre questa grande realtà che i testimoni di Geova riconoscono che ci sono secondo loro molti di. Quindi loro credono in molti di però ne accettano solo uno che è Dio appunto Geova. Ok? E questa cosa qui emerge sempre nei dibattiti. Quindi se qualche testimone di Geova o ex testimone di Geova nega questa cosa qua sta semplicemente mentendo assolutamente sta mentendo io pubblicamente perché questo è dimostrabilissimo lo denuncio come un bugiardo. Il testimone di Geova crede in più di nell'esistenza di più di ma non li riconosce come tali nell'adorarli ma riconosce solamente Geova e adora solo lui. Infatti quando gli viene presentato nel dibattito al testimone di Geova di turno che apologeta che dibatte Giovanni capitolo 1 loro dicono vedi e ci sono molti di ci sono molti di però questi di semplicemente ok non non devono essere adorati il che è falso la parola di Dio non ha mai detto che ci sono molti di ma se tu segui il discorso dalla Genesi all'Apocalisse è che secondo l'uomo l'uomo idolatra ci sono molti di ma questo è il pensiero dell'uomo ma la scrittura non dice che ci sono molti di ma che solo uno è il grande Dio e gli altri sono dei Dio piccoli questo è completamente falso ora perché dico questo perché il testimone di Geova che fuoriesce dall'organizzazione molte volte o alcune volte se veramente non nasce di nuovo e seppur essendo nato di nuovo non persevera nella nuova nascita ok si porterà questa dottrina dietro e in qualche maniera non concretizzerà questa dottrina al 100% ovvero nella deificazione vera e propria di Maria ma si farà sì che Maria comunque non sia uguale agli altri uomini ma sia superiore perché lui è già imbevuto di questa dottrina e questo è molto importante ecco perché poi dopo iniziano anche a mischiare altre cose tipo l'Eucaristia utilizzano nomi cattolici e così via discorrendo altri proprio perdono il sentiero ancora in maniera più enfatica e diventano proprio cattolici ok questo è molto importante allora perché questo video questo video per presentare in maniera molto sommaria l'opera della grazia mediante la fede e che quando la scrittura dice certe cose tipo beata sei tu l'enfasi non deve essere posta sulla persona di maria ma sulla grazia e quindi sulla fede e la fede è cristo e quindi l'enfasi va posta in cristo e non in maria perché amartia che è peccato in greco significa non solo trasgressione della legge ma anche mancare il bersaglio quindi se tu manchi il bersaglio quindi se il tuo bersaglio non è cristo in un senso buono del termine cioè non cogli il bersaglio tu mancherai il bersaglio e quindi punterai su un'altra cosa nello specifico stiamo parlando della figura di maria e la figura di maria non è il fondamento è semplicemente uno dei tanti strumenti che viene dal popolo ebraico infatti quando Adamo e Deva peccarono torniamo a Genesi 3 quando Adamo e Deva peccarono nel capitolo 3 erano scaduti dalla grazia scusate erano scaduti dalla salvezza perdono sbagliato rettifico erano scaduti dalla salvezza e quindi erano come dire degni di morte quindi dovevano morire però che fa il Signore il Signore li riveste nonostante loro non confessano il proprio peccato quindi neanche si pentono non c'è pentimento in loro perché appunto Adamo dirà ma è stata la donna che tu mi hai messa a fianco quindi non confessa anzi gli dà la colpa a Dio quasi quasi o no quasi quasi Eva non sapendo come uscirne fuori invece di dire Signore ho peccato abbi pietà di me no no è stato il serpente quindi nessuno confessa quindi non solo c'è la trasgressione c'è la morte ma manca anche il pentimento e nonostante tutto Dio li veste con pelle di animale è scritto interessante questo termine pelle di animale ma questa è un'altra storia ecco qui il primo sacrificio espiatorio che raffigurerà il grande sacrificio quindi l'enfasi non è l'essere umano l'enfasi è Dio e da adesso in poi l'enfasi per la salvezza sarà sempre Dio e da qui in poi inizieranno a nascere i cosiddetti patti di Dio che sono sette quindi il primo patto è il patto edenico fatto nell'Eden quindi questo il patto viene sempre da Dio viene per la salvezza di Dio quando arriviamo in Genesi 6 Genesi 6.8 lo vado a leggere tutto quello che diremo leggeremo e faremo lo diremo lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre nel nome del Figlio nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno Amen Genesi 6.8 dice che Noè trovò grazia presso il Signore quindi la parola grazia si presenta nel panorama biblico come grazia è io merito la morte ma trovo grazia infatti se qualcuno dice però Noè era giusto voglio ricordare che davanti a Dio non c'è neppure un solo giusto infatti Noè trovò grazia si parla di grazia non che io lo merito altrimenti grazia non sarebbe grazia ricordo che in Noè troviamo il secondo patto ok quindi il secondo patto viene da Dio e viene fatto per la salvezza degli uomini poi c'è il terzo patto che è il patto abramico ok e viene sempre da Dio poi c'è il quarto patto che è il patto del Matantorà il quarto patto è la consegna della legge che viene da Dio poi c'è il quinto patto il patto levitico poi c'è il sesto patto il patto davidico e l'ultimo patto quando il signore Gesù prenderà il calice questo è il patto che io faccio il nuovo patto la nuova alleanza il nuovo testamento il nuovo accordo e ogni volta il patto viene da Dio per salvare l'uomo nonostante i suoi misfatti ok infatti quando Dio fa il quarto patto che istituisce il corpo dei sacrifici il corpo della legge sacrificale ok noi vediamo che nonostante ci fossero dei tzadik dei giusti molti giusti nel popolo comunque nessuno era privo di peccare e quando si pecca si deve morire e allora per far sì che l'uomo non morisse nell'antico testamento è stato creato un corpo nella legge il corpo sacrificale e quindi l'uomo portava al posto suo un animale che veniva sacrificato al posto suo questo simboleggiava dirà ebrei capitolo 10 simboleggiava il grande sacrificio per eccellenza fatto dal figlio di Dio direttamente Dio il suo figliuolo unigenito figliuolo quindi è scritto in ebrei 10 che il sangue di Becchi il sangue di Tori non può togliere il peccato quindi l'enfasi va posta su Gesù Cristo quindi è sempre la grazia quindi nessun uomo cominciamo a vedere è meritevole di nulla infatti in in Esodo noi vediamo che il popolo viene fatto uscire dall'Egitto che rappresenta il mondo è scritto in Ezechiele capitolo 20 potete leggerlo Ezechiele capitolo 20 ci sono vari versi dove dice che gli ebrei dentro l'Egitto adoravano adoravano gli idoli nonostante venissero da Abramo nonostante venendo da Abramo conoscevano il Signore conoscevano le sue leggi perché noi vediamo adesso anche se non avevano ricevuto la legge ma conoscevano comunque il volere di Dio conoscevano l'idolatria conoscevano che c'erano animali puri e impuri perché Noè prese animali puri e impuri ma chi gli ha detto a Noè quali erano gli animali puri e quali erano gli animali impuri se la legge ancora non era stata data e non aveva stabilito animali puri impuri quindi bene o male l'uomo seppur in maniera generale ancora prima di ricevere la legge già conosceva ok il volere di Dio seppur in maniera generale quindi gli ebrei dentro Israele dentro scusate Egitto sapevano che non dovevano avere altri di eppur li adoravano eppur li servivano Ezechiele 20 denuncia questa cosa qua eppure Dio li è andati a cercare li ha salvati li ha tirati fuori dall'Egitto perché per grazia quindi l'enfasi va posta sulla grazia questo è molto importante in Daniele 1.9 quando leggiamo che Daniele trovò grazia voglio prenderlo Daniele 1.9 Daniele allora Ezechiele Daniele eccolo qua Daniele 1.9 dice che il Dio fece trovare a Daniele grazia e pietà appresso il capo degli eunuchi quindi il Dio fece trovare grazia a Daniele ma perché fece trovare grazia a Daniele perché a sua volta Daniele fu graziato perché è pur vero che Daniele era tzadicche è pur vero che Daniele era giusto ma davanti a Dio tutta la nostra giustizia è come un panno lordo se noi prendiamo tutta e non c'è un solo uomo dirà Salomone nella sua famosa orazione e molti altri che non pecchi davanti a Dio infatti lo stesso Daniele nel capitolo 9 dal 24 al 27 le famose 70 settimane di Daniele nel verso 26 pone enfasi sull'opera espiatrice del Cristo che verrà per togliere il peccato quindi l'enfasi è sulla grazia ma la grazia è mediante la fede e la fede è l'opera di Cristo e quindi è Cristo stesso questo è molto importante un altro aspetto di questo è Ninive Ninive doveva morire ma fu graziata qualcuno obietterà e dirà sì ma Ninive fu graziata perché obbedì perché credette in quello che disse il profeta quindi l'enfasi non è Ninive obbedì ma Ninive credette e quindi è la fede quindi l'enfasi è Cristo e non l'uomo perché allora dovremmo annullare tutta quella parte della scrittura che comunque va dalla Genesi all'Apocalisse che dice che l'uomo più giusto al mondo la sua giustizia è come un panno lordo e che davanti a Dio di la Romani non c'è un solo giusto uno solo che faccia il bene romani lo mette nero su bianco infatti quando noi andiamo nel salmo 32 1 32 10 dirà beato l'uomo a cui grazia viene fatta beato l'uomo questo lo dirà se non vado errato corriggetemi se sbaglio Davide dovrebbe essere Davide vado a prendere il passo salmo 32 eccolo qua sì salmo di Davide beato colui la cui trasgressione è rimessa sì perché non c'era un solo giusto che non peccasse e che comunque non dovesse recarsi al tempio a presentare il sacrificio poi nel verso 10 dice molti dolori avverranno all'empio ma benignità intornerà colui che si confida nel Signore e altre versioni traducono in maniera diversa però vabbè adesso io ho questa versione qua comunque basta e avanza il verso 1 che dice beato colui la cui trasgressione è rimessa il cui peccato è coperto beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e poi nel cui spirito non vi è frodo alcuna certo perché crede perché quindi la grazia è legata sempre alla fede e la fede è l'opera del Cristo altrimenti in cosa credi in Cristo nel figlio di Dio che è sceso che è stato un tempo fra di noi che poi è morto che è risorto il terzo giorno che intercede e che tornerà e siccome tornerà ci sarà una grande tribolazione e siccome ci sarà una grande tribolazione la Chiesa sarà tolta prima quindi l'Evangelo di Gesù Cristo quando si dice è credere nel Signore Gesù Cristo sì ma che cosa è credere nel Signore Gesù Cristo quindi inevitabilmente credere nel Signore Gesù Cristo significa anche il ritorno di Cristo il rapimento della Chiesa grande tribolazione millennio e così via discorrendo l'Evangelo di Gesù Cristo non è solamente un versetto e così via discorrendo quindi Romani famoso ma anche il Salmo 119 famoso Salmo 119 verso 29 benedetto è il nome del padre del figlio e dello spirito santo io so che ai butindarini e butindaro dà fastidio lodare il padre il figlio e lo spirito santo ma è un loro problema se sono antidrinitari allora o pseudo trinitari verso 29 dice rimuovi da me la via della menzogna e fammi il dono della tua legge ok rimuovi da me la via della menzogna e fammi altre versioni traducono fammi con la tua grazia insomma poi varia da traduzione a traduzione perché il linguaggio originale ha più modi per essere tradotto quindi quando noi cominciamo a vedere che l'enfasi l'enfasi è sulla persona sul sull'espiazione di quello che Cristo ha fatto infatti quando io vado in Romani il famoso Romani lo vado a prendere Romani è una epistola importante allora Romani eccolo qua Romani allora Romani che ne so Romani 5 Romani 5 dice giustificati dunque per fede quindi la giustificazione avviene per fede e questo reca a noi pace presso il Dio per Gesù Cristo nostro Signore per il quale abbiamo avuta per la fede introduzione a questa grazia quindi noi veniamo introdotti nella grazia con la fede quindi tu non puoi separare la fede dalla grazia dalla grazia dalla fede quindi quando noi arriviamo al famoso passaggio di Luca 1 dove l'enfasi da chi taglia male la parola di Dio viene posta non sulla grazia non sulla fede non quindi sulla persona di Gesù Cristo ma viene posta sull'uomo sull'essere umano nello specifico stiamo parlando di Maria succede quanto segue quando io leggo Luca capitolo 1 il verso numero 28 lo specifica in maniera molto precisa il verso 28 recita quanto segue se lo trovo ecco e l'angelo entrato da lei disse ben ti sia o tu a cui grazia è stata fatta quindi Maria è stata scelta non perché fosse la donna più grande anzi Maria è stata una grande bestemmiatrice perché se noi leggiamo Marco è scritto che Maria disse che il Signore Gesù stava fuori di testa cioè disse che il Signore Gesù era matto mi dispiace utilizzare questo termine ma è la verità quindi Maria bestemmiò bestemmiò avendo visto che era concepito il Signore Gesù non da seme umano perché un seme umano non poteva concepire il Signore Gesù perché il seme umano è corrotto il seme umano infatti un corpo tu mi hai preparato dove? su nel cielo il corpo di Cristo è stato preparato su nel cielo perché Gesù è stato un vero uomo di carne come noi ma il seme è venuto dal padre da sopra è venuto ed è sceso ma questa è un'altra dottrina ancora quindi l'uomo non poteva concepire Gesù perché l'uomo è corrotto e Gesù era perfetto quindi il seme è venuto da sopra lei lo sapeva questo eppure ha bestemmiato dicendo che era matto quindi l'enfasi va posta sulla grazia e non che Maria è la più grande di tutti infatti il verso 30 dice ponendo enfasi a questa grande verità e l'angelo disse non temere Maria perché tu hai trovato grazia presso il Dio quindi Maria non è stata speciale Maria non è stata più grande di tutti quanti gli uomini è stata una donna giusta giusta come tanti altri giusta come gli apostoli erano giusti Paolo era un giusto o sì era giusto però poi la sua giustizia quando è venuto Cristo si è rivelata che è diventato il più grande persecutore della chiesa ma prima che la chiesa nascesse Paolo era un giusto e quando è nata la chiesa ha cominciato a perseguitare la chiesa e la sua giustizia dove è andata a finire e il più grande persecutore della chiesa di quel tempo probabilmente il più grande sì penso il più grande ha proprio lui è stata fatta grazia perché l'enfasi va posta sulla grazia e non sulla persona infatti verso 45 di Luca 1 dice ora beata è colei che ha creduto quindi la beatitudine trova il suo fondamento nella persona perché fede è Cristo credere in lui l'enfasi è credere tutte le età mi predicheranno beata certo ma questo non significa che Maria è la più grande di tutte le donne e che non c'è una donna più grande di Maria perché l'enfasi non è Maria Maria fu scelta ragazzina 15 anni 16 17 questo nel linguaggio originale Alma e Betula quando Isaia 7 14 utilizza il termine Alma significa giovane e rientra in una fascia di età che può andare dai 14 fino ai 16 17 anni più o meno quella è l'età che aveva Maria fu scelta giovane proprio perché più giovane sei e più lontano sei stato dai mali dagli errori dai peccati perché ne hai combinate di meno perché è molto più facile che tu sia vergine anche se lì in quell'epoca là quasi tutte dentro al popolo di Israele erano vergini prima del matrimonio e così via discorrendo quindi beata la beatitudine non è non pone enfasi sull'essere umano sulla persona di Maria ma sull'opera espiatrice del creatore del Cristo vivente del Cristo uomo dirà Timotio perché 2.5 prima Timotio 2.5 un solo mediatore fra Dio e gli uomini Gesù Cristo uomo infatti tornando a Romani capitolo 5 molto importante l'epistola ai Romani Romani capitolo 5 vado a chiudere verso 2 l'abbiamo letto il verso 15 dice che ma pure la grazia non è come l'offesa perché se l'offesa dell'uomo di quei molti che sono morti molto più è abbondata verso quegli altri molti la grazia di Dio e il dono per la grazia dell'uomo di Gesù Cristo verso 17 dice perciò che se per l'offesa di quell'uno la morte ha regnata per esso uno molto maggiormente coloro che ricevono l'abbondanza della grazia del dono della giustizia regneranno in vita siccome adunque verso 18 per l'offesa del giusto è passata a tutti gli uomini in condanna così ancora per l'atto di giustizia la grazia è passata a tutti gli uomini la legge intervenne a ciò che l'offesa abbondasse ma dov'è il peccato è abbondato la grazia è sopra abbondata l'enfasi quando viene posta sulla persona che sia Maria che sia chi te pare diventa gnosticismo l'uomo al centro di tutto Cristo solo Cristo solo Giovanni 1 17 dirà perché la legge è stata data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo Romani 4 4 dice ora a colui che opera il premio non è messo in conto per grazia ma per debito ma colui che non opera anzi crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli è posta come giustizia beata o tu fra le donne non significa tu sei la più grande delle donne ma pone enfasi sulla grazia ricevuta e questa grazia ricevuta la resa beata come di beata a te che ti è successo questo ma non per questo sei il più grande di tutto perché sei beato sei beato perché sei stato graziato o tu uomo o tu miserabile peccatore indegno e che non sei capace di fare il bene che tutta la tua giustizia è sporca come un panno lordo dirà Isaia paragonandolo al panno delle mestruazioni nel linguaggio originale gloria al padre gloria al figlio gloria allo spirito santo romani capitolo 15 ma potremo stare qui ore a leggere la parola di Dio ma non la voglio fare lunga perché chi ha orecchie ascolti ciò che la parola dice alla chiesa di Gesù Cristo fratelli io vi ho scritto alquanto più arditamente come pericordo per la grazia che mi è stata data Dio per essere ministro di Gesù Cristo l'apostolo il più grande persecutore della chiesa gli è stata fatta grazia eh sì secondo Timotio 1.9 dirà Paolo io ho ricevuto grazia ecco perché Paolo in quasi tutte le sue epistole egli inizia con la parola grazia l'Evangelo della 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 grazia vediamo un pochino di prenderne solo uno vediamo prima Corinti prima Corinti 1 verso 3 il Signore di loro e di noi grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo quindi grazia 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 e grazia poi vogliamo prendere che ne so un altro Galati Paolo apostolo non dagli uomini eccetera 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 che l'ha suscitato dai morti verso te grazie a voi e pace grazia ogni volta che Paolo inizia una sua epistola quasi sempre la parola d'ordine è grazia grazia subordinata alla fede e alla fine dei tempi dirà Zaccaria 12 verso 10 che gli ebrei quando sarà compiuto il tempo dei gentili questo è scritto devi leggere tutto a Romani 9 10 e 11 gli sarà dato lo spirito di supplicazione di grazia e senza la grazia non si va da nessuna parte quindi la mariologia non esiste solamente nel mondo cattolico ma anche nel mondo o pseudo evangelico o addirittura non evangelico da parte di molti o pochi solo Dio lo sa fuoriusciti dai testimoni di Geova che vogliono proporre Maria come una donna che è speciale la più grande di tutte le donne perché è scritto che è beata è che tutte le età parleranno di te ma parleranno di te per porre enfasi sulla persona di Cristo sul miracolo avvenuto perché Maria ha partorito essendo vergine quindi l'opera l'opera è di Cristo l'opera è di Dio l'enfasi è dell'opera meravigliosa una donna vergine che partorisce e chi partorisce? un Dio incredibile e lì l'enfasi no Maria la più grande Maria speciale no Maria non è speciale in se stessa è stata resa speciale nel senso se la vogliamo mettere così perché questa grazia l'ha resa speciale nel senso che gli è capitata sta cosa qua ma non è lei l'enfasi Maria non è più grande più santa più giusta di qualsiasi altro lavato con il sangue di Cristo perché l'enfasi è Cristo è il sangue di Cristo è l'opera sulla croce è la morte è la risurrezione è l'ascensione è l'intercessione è il ritorno è il regno millenare è la parola di Dio fatta carne è la remissione dei nostri peccati sono le promesse è la rigenerazione della sua chiesa del corpo di Cristo questa è l'enfasi questa è l'opera questo è l'Evangelo l'Evangelo non è un solo verso l'Evangelo è tutta la parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse è la grazia è la fede è la venuta di Cristo è l'ascensione è il ritorno e quindi è l'opera di redenzione poi del genere umano è l'opera della condanna degli empi e quindi è il ritorno di Cristo è il rapimento della Chiesa è la grande tribolazione è il millennio è tutto è l'Evangelo e chi ha orecchie per udire ascolti ciò che la parola dice alla Chiesa di Gesù Cristo in questo ultimo minuto della mezzanotte previo rapimento della Chiesa e inizio della grande tribolazione per poi culminare in Armagedonne con la seconda venuta di Cristo e chi ha fede e dica amenne e chi è cristiano dia lode al Padre al Figlio allo Spirito Santo Dio vi benedica con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo video programma Shalom a amm Grazie.